E infatti adesso basta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Abbiamo letto le notizie, abbiamo visto che comunque alla fine c'è un lieto evento che presto suggerirà alla tua famiglia. Scusa, ma prima scatta tu sai che qui suonano. Sì, sì, ma non c'è nessuno, siamo solo noi dietro. Poi non ti facciamo suonare noi, eh? No, la Smart. La Smart gli diciamo di aspettare. Comunque, sei felice, Caterina? Sì! No, è che vogliamo sentircelo dire, è questo il fatto. Ragazzi, sono un po' imbarazzata. Anche noi. Ecco. Ciao, Caterina! Ciao!